Voglio raccontare questa storia perché per quanto mi riguarda è una storia agliato fine e appunto parla anche di aspetti e sfumature della periferia romana e di problemi come la droga o comunque problemi effettivi da combattere e questa però sicuramente è una storia agliato fine, la nostra invece di scegliere appunto quella strada là di scegliere stronzate ci siamo messi sotto con la musica quindi penso di essere un buon esempio Grazie